Sono partite ieri le iscrizioni per l'anno scolastico 2013-2014, secondo modalità innovative rispetto al passato. L'iscrizione va fatta per via telematica dopo aver effettuato la registrazione sul sito del Ministero www.iscrizioni.istruzione.it cliccando sul banner Iscrizioni Online. L'iscrizione va fatta utilizzando le stesse credenziali utilizzate per l'accesso al CD e non su polis o altre applicazioni del Ministero. Al fine di garantire il diritto allo studio dei giovani residenti nella provincia e di assicurare la massima assistenza alle famiglie più bisognose che non dispongono di un computer con accesso a Internet né di una casella di posta elettronica, Un operatore per l'assistenza agli utenti che dovranno iscrivere i propri figli sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30 presso ogni centro e sportello per l'impiego della provincia Barletta-Anderiatrani. Nei medesimi giorni e orari e senza necessità di appuntamento, lo stesso servizio sarà garantito anche presso la struttura del settore politica e del lavoro, formazione professionale, pubblica istruzione e istituto tecnico agrario della provincia di Barletta-Anderiatrani. È da sottolineare però che molte scuole offrono la possibilità agli utenti di usufruire di un sistema ibrido, utilizzando cioè oltre alla modalità telematica anche quella cartacea. Grazie.